E' il Sambuceto che alza la Coppa Italia di Eccellenza Abruzzo 2022-2023 i viola nella finale di Sulmona. Hanno piegato i rigori l'Aquila dopo l'1-1 maturato al novantesimo e diventato 2-2 alla fine dei tempi supplementari. Ma riavvolgiamo il nastro della partita e andiamo in cronaca. Nella prima parte di gara l'Aquila si fa preferire per manovra e atteggiamento, ma la prima vera occasione alla mezz'ora la confeziona il Sambuceto. Ventola verticalizza per Barrow che entra di gran carriera in aria ma viene stoppato dall'uscita di Barbagallo. L'Aquila replica al 34esimo, punizione di Massetti incornata di Sciba a centro aria e miracolo di Didonato che disinnesca in allungo. Sei giri di lancette ancora lato l'Aquila, Massetti ci prova con un velenoso tiro cross dalla destra che per poco non beffa Didonato. Ripresa a meno di due minuti e la gara si sblocca con il vantaggio dell'Aquila, punizione di Massetti da sinistra. All'altezza del secondo palo Sciba è il più lesto di tutti e di testa mette in rete. Al diciannovesimo però la gara torna in parità, Barrow approfitta di un'incomprensione tra Brunetti e Barbagallo e con un preciso tocco sotto scavalca l'estremo difensore aquilano e insacca. Minuto 33 l'Aquila un passo dal nuovo vantaggio sul colpo di testa di Sciba e decisivo il salvataggio di Orlando praticamente sulla linea di porta. Finisce così 1-1 e si va quindi ai supplementari che per l'Aquila iniziano in salita. Dopo 4 minuti infatti Corticchia rimedia il secondo giallo della sua partita e lascia il rosso-blu in 10. Nonostante l'uomo in meno l'Aquila proprio allo scadere del primo supplementare si riporta in vantaggio. Punizione di Massetti in mezzo all'area svetta Scipioni che di testa batte Didonato. I rosso-blu resistono per tutto il secondo tempo supplementare ma al 121 subiscono la rete del 2-2. Mischia sugli sviluppi di un angolo e per il Sambuceto è Carminelli che trova la stocchiata decisiva. L'atto finale del confronto sono quindi i tiri di rigore. Il Sambuceto è perfetto e fa 5 su 5 mentre per l'Aquila è decisivo l'errore di Scipioni che si fa parare la conclusione da Didonato. L'ultimo rigore per i viola lo segna Bratelli che regala ai suoi la gioia della Coppa e l'approdo alla fase nazionale della competizione. L'Aquila dal canto suo adesso potrà e dovrà concentrarsi sul prosieguo del campionato.